Mi chiamo Maria e sono un'introversa. Grandi gruppi di persone, feste super rumorose ed essere al centro dell'attenzione? No, grazie. So che non sembro una delle ragazze che esce sempre e beve tanto, ma spesso mi ubriaco. Ci credete? E la me ubriaca è un completo disastro. Brividi. Tutto iniziò qualche anno fa quando Kimberly ha fatto un pigiama party per il suo compleanno. Ero nervosa per questo, perché non conoscevo le altre ragazze, ma non volevo deludere la mia migliore amica. Così sono andata. Prima abbiamo cenato. Pizza alta e patatine al formaggio. Gnam. Poi di colpo sono diventata strana. Non potevo smettere di ridere per ogni cosa. Poi ho corso per la casa fingendo di essere un aereo e affacciata alla finestra ho iniziato a salutare gli sconosciuti che passavano di lì. Però non me lo ricordo proprio, ma una delle ragazze ha fatto un video caricandolo sulla sua pagina social. Il giorno dopo a scuola tutti mi indicavano e ridevano di me. Scoprì che il video era diventato virale. Non riuscivo a capire perché mi comportavo così. Era così insolito per me. Poi le cose sono peggiorate. Moltissimo. Una volta, 15 minuti dopo aver finito il pranzo immensa a scuola, sono uscita da lì e ho iniziato a sentirmi intontita. Incrociai una tipa che spesso mi guardava male e poi farfugliai «cosa hai da guardare?» per poi schiaffeggiarla. Lei si è arrabbiata colpendomi a sua volta. Una prof ha dovuto separarci e io sono finita nell'ufficio del preside. Mi ha accusata di essere ubriaca chiamando mia mamma. Come potete immaginare, mamma era furiosa. Mi mise in castigo per un mese intero, togliendomi la paghetta che pensava usassi per comprare alcolici. Le ho detto che non bevevo affatto, ma non mi credeva. Ero così confusa. Non capivo perché mi succedevano queste cose strane. Volevo solo una vita serena. Allora perché il mio carattere cambiava di colpo? Era il compleanno della mia sorellina. Dopo aver mangiato un pezzo di torta alla frutta, di colpo iniziai a sudare e sentirmi confusa. Sono scoppiata a ridere senza motivo. Dicevo sciocchezze e poi sono caduta dalla sedia. Tutti gli altri mi fissavano confusi. Alla fine mamma ha capito che qualcosa non andava in me. Mi ha portato da molti specialisti, ma tutti non ne avevano idea. Alla fine uno specialista mi ha dato una diagnosi. Scoprì di avere una malattia rara, la sindrome della fermentazione intestinale. Questo causa una fermentazione endogena nel sistema digestivo. Quindi gli zuccheri o amidi che mangio producono alcol, che mi rende ubriaca. Per limitare questi episodi di ebbrezza, ho dovuto ridurre drasticamente i cibi zuccherati e amidacei e prendere medicine. Come potete pensare, non poter mangiare questi cibi non era affatto divertente. Mi piacciono le caramelle, il cioccolato e amo i pretzel, che sono uno dei cibi più pieni di amido che esistano. Che seccatura! Nei due anni in cui ho convissuto con questa malattia mi sono abituata. Ho scoperto cibi sostitutivi, come le verdure fritte e il pane paleo. Può essere difficile al ristorante, perché odio essere la cliente scomoda con una lunga lista di richieste. Ma non è sempre così brutto, perché ho imparato come controllare gli zuccheri che mangio. Ho imparato ad essere un adolescente normale e vivere quasi normalmente. Beh, almeno finché non ho avuto una cotta per Scott, un mio compagno di classe carino. Essendo una tipa timida non mi sognavo nemmeno di dirgli cosa provavo, ma probabilmente la mia sindrome rara poteva aiutarmi in questo. Così, alla festa di Kimberly, quando Scott mi ha dato un pezzo di torta al cioccolato, io l'ho presa e mangiata. E molto presto mi sono sentita più sicura e poco dopo ho osato richiedere canzoni, cantandole di fronte a tutti con sicurezza. Ho scelto la canzone Adore You di Harry Styles, dedicandola alla mia fantastica amica Kimberly, ma cantando ho guardato verso Scott. Più tardi Scott mi ha scritto chiedendomi se ero già a casa. Poi abbiamo parlato ancora. Ma il giorno dopo, quando Scott mi ha chiamata in corridoio, l'ho solo salutato timidamente con un sorriso. Senza lievito ero tornata la solita ragazza timida. Poi, alla lezione di letteratura inglese, la prof ha messo me e Scott in gruppo per fare uno spettacolo di Shakespeare. Lui era Romeo e mi ha chiesto se volevo essere Giulietta. Oh, una tipa timida, calma e balbettante come me, recitare davanti a tutta la classe era impensabile. Ma non volevo che nessun'altra facesse Giulietta. Così ho preso coraggio e ho detto sì. Per questo, prima di ogni prova e dello spettacolo ufficiale, ho mangiato delle caramelle. Lo spettacolo è stato un successo. E poi Scott mi ha chiesto di andare insieme alla festa di un suo amico. Ero preoccupata, ma pensavo che ubriacandomi con un po' di cibo tutto sarebbe andato bene. Durante la festa ero molto nervosa e desideravo essere sicura di me. Così ho mangiato più frutta e caramelle del solito. Già, sapevo quanto mangiare per rimanere in controllo delle mie azioni, ma per il nervoso ho esagerato. Il resto della sera era confuso. Ma Scott ha detto che ridevo come una matta. Barcollavo e ho anche abbracciato il collo del suo amico Freddy, baciandolo sulla guancia. Per questo la ragazza di Freddy mi è schiaffeggiata davanti a tutti. Anche se Scott era arrabbiato, mi ha comunque portata a casa. Ho cercato di balbettare una scusa, ma ero così ubriaca che gli ho vomitato addosso. Che imbarazzo! Eppure, da bravo ragazzo, mi ha portata dentro e mamma mi ha messa a letto, per poi dirgli della mia malattia. Quando abbiamo parlato di nuovo, era molto comprensivo e ha detto che gli piacevo come ero e che non dovevo mangiare quei cibi per sentirmi più sicura. Sì, ho sbagliato ad approfittare della mia malattia. La versione di me sicura e ubriaca è avventata e non voglio più essere così. A volte è difficile, soprattutto perché trovo imbarazzanti e scomodi gli eventi sociali, ma so che devo seguire le indicazioni del medico per gestire la mia malattia. Ora sto cercando di costruire la mia autostima invece di contare su una falsa sicurezza datami dai cibi con amidi. So che non sarà facile, ma ora so che ci sono tante persone là fuori a cui piaccio per quello che sono.